Se tu stai con donne molto belle verrai ammirato dagli altri uomini e verrai considerato dalle donne come un partner potenziale di valore perché ovviamente una donna molto bella ha un valore sociale, l'ho già spiegato in tantissimi altri video le donne molto belle hanno un valore sociale alto che è dato appunto dalla loro bellezza perché bellezza significa capacità di riproduzione dentro il nostro cervello, dentro i nostri istinti umani e quindi una donna con un alto valore di riproduzione è una donna che antropologicamente ha un valore sociale molto alto ecco perché le donne molto belle si accompagnano a uomini con un alto valore sociale proprio perché devono essere equiparati proprio per questo donne molto belle faranno sì che il tuo valore sociale aumenti ecco